Dopo chiudere il discorso salvezza il nostro obiettivo è il decimo posto è difficile ma sappiamo che possiamo dare fastidio a tutti come abbiamo fatto col Torino che in uno in meno abbiamo tenuto bene tutta la partita tranne i due minuti che abbiamo preso quel due gol ma adesso con la Roma bisogna bisogna fare punti per arrivare al decimo posto. Io ho visto che iniziava l'azione a sinistra con il fallo laterale ho visto questi sensi che la dava in profondità a Jeremy e come lo conosciamo già quando vedi che va a puntare l'uomo sai che lo salterà e allora sono andato a chiudere il secondo palo e ho visto che ha tirato lui la rispinta è rimasta la pala lì e c'era Alfred Duncan che mi chiamava di appoggiarla ma avevo in testa di colpirla di tacco e per fortuna è entrata. Fonda più la soddisfazione di aver giocato alla grande in dieci e di aver tenuto come una grande squadra tutti insieme solo per peccato per per il gran gol per il gran gol che ha fatto Pelotti alla fine se no era potevamo portare anche a casa un punto ma orgoglioso della mia squadra. Sì sappiamo che sarà una una partita molto calda con tensione per loro si vogliono qualificare per l'Europa come aveva fatto tutta la stagione contro le grandi squadre abbiamo fatto belle prestazioni quello che proveremo a far sabato partendo noi da dietro con la palla come sempre e andando a far gol senza paura. Sappiamo che la Roma grandi giocatori ma ma ci stiamo allenando bene in settimana per perdere il massimo sabato. Sì sì è stata una stagione c'è diciamo meglio migliore che l'anno scorso ma c'è il rimpianto per per tutte quelle partite che tutti quei punti persi che se li vai a vedere potevi averne tanti di più ma è vero anche che non era facile con tanti giocatori nuovi il nuovo mister ma alla fine è stata stato un bel anno che si poteva far meglio ma non era facile anche il livello di quest'anno visto che quante squadre sono ancora in lotta per per la salvezza e per l'Europa. Sì no sotto sotto il punto di vista individuale è stato il terzo anno il mio terzo anno in Serie A è stato il migliore a dire questo grazie anche al mister per il gioco che abbiamo fatto e quello che mi ha fatto fare la mia migliore versione che come sapete in fase offensiva e anche in fase difensiva ho migliorato tantissimo e sono contento per questa stagione che ho fatto. Giusto ci ho incontrato ancora un po' di anni ma nel mondo del calcio non possiamo mai sapere adesso penso a finire queste due partite al meglio e poi vedere se sono convocato questo venerdì esce la lista per il per l'europeo con la con l'under 21